La nuova giunta comunale uradese guidata dal sindaco Gianfranco Comaschi ha lavoro per trovare soluzioni ai principali problemi che gravano sulla comunità, in particolare quello della videosorveglianza per la quale sarebbe imminente l'installazione di cosiddetti varchi elettronici agli ingressi del centro storico. Il monitoraggio della zona, caratterizzato soprattutto nelle serate estive da parcheggi selvaggi da parte di automobilisti che approfittano degli scarsi controlli, partirà già a settembre e sarà attuato dalla Polizia Municipale. Un primo passo per giungere ad una copertura ancora più incisiva, a vantaggio della sicurezza e contro l'inciviltà e il vandalismo. Il Comune sta cercando poi di risolvere anche il problema del post-sportivo Gerino, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscono la fruibilità agli sportivi, in attesa di individuare il gestore definitivo. Intanto è stata firmata la delibera che fino al prossimo 31 ottobre prolunga l'affido degli impianti all'uvadese calcio. Sarà intanto avviato il project financing per individuare, sempre in ambito sportivo, chi si occuperà delle strutture e della loro manutenzione da novembre in poi. Parlando invece di sanità, il Comune adeguerà dal punto di vista urbanistico l'area adiacente all'ospedale cittadino, in vista del potenziamento del pronto soccorso, annunciato dalla ESL, che sarà finanziato con 4,5 milioni ottenuti dal PNRR. L'intervento per realizzare una nuova struttura a norma dovrà terminare nel 2026. Nel frattempo dovranno essere effettuati i lavori per modificare la viabilità nell'area ospedaliera. Originariamente la somma avrebbe dovuto essere utilizzata per interventi antisismici e antincendio. Ora sarà invece destinata ad un ampliamento del pronto soccorso più che mai necessario e che negli anni scorsi era stato declassato a punto di primo intervento. La nuova struttura aprirebbe anche la possibilità per il 118 di trasportare almeno i codici verdi all'ospedale di Ovada. Per la giunta vadese, infine, il problema trasporto è sempre in prima linea. Dopo la firma del documento unitario fra i comuni per un dialogo più costruttivo con regioni, ferrovie, ANAS e autostrade, che fino ad oggi non è servito ad evitare completamente la mancanza di coordinamento fra le istituzioni, il comune di Ovada è a fianco degli abitanti della frazione Gnocchetto, che attendono la messa in sicurezza definitiva del tratto della statale 456 del Turchino, interessata da tempo da una frana. Dopo l'avvio della fase di progettazione, ANAS dovrebbe avviare i lavori dopo agosto, verranno collocate reti aderenti con una barriera a paramassi di 40 metri. Grazie. Grazie. Grazie.